In queste strutture appena terminate, il canile rifugio e il canile sanitario, i nostri amici a quattro zampe ricevono le prime cure, la sterilizzazione, le vaccinazioni, la microcippatura, ma questa non è la loro vera famiglia. Attendono che molti di voi li accolgano nelle vostre case e soprattutto non li abbandonino mai. Grazie per la visione!